Ciao ragazzi e ciao ragazzi, allora faccio questo video dopo tanto tanto tempo perché ci sono stati i vari problemi, ovvero ci sono stati i vari problemi io comunque inizio a dire che non è che vi sto dicendo di non fare assolutamente la ragazza alla pari di non partire, di non rischiare, assolutamente no perché comunque secondo me fare la ragazza alla pari serve serve per essere indipendenti, serve per riuscire a cavarsela da soli serve per imparare la lingua, serve per incontrare nuove persone, fare nuove conoscenze, amicizie avere una nuova vita, ecco Cosa è successo in poche parole? Praticamente è successo che non sabato 4 aprile, ma quello ancora prima è successo che i miei host parents mi hanno fatto un discorso Cosa è successo? Praticamente io, a parte che il sabato, quando dovevo, era sabato mattina e io dovevo partire presto, dovevo uscire di casa presto perché dovevo andare con la mia amica, cioè anche lei opera italiana dovevamo andare a Slane's Castle che è praticamente ad Alverdine, tipo di sta un'ora di Pullman è questo castello fighissimo che si trova proprio in cima circondato dal mare, dall'eclipse ed è davvero un posto molto molto carino praticamente cosa è successo? Io praticamente dovevo andare, dovevo uscire di casa perché ci dovevamo incontrare verso le 10-10 adesso non mi ricordo, 10-10 perché dovevamo fare colazione e poi prendere le Pullman insieme è successo che loro mi hanno fatto un discorso del tipo e ne abbiamo parlato tanto con io e lei su questa cosa e abbiamo deciso che comunque ti ringraziamo anche se ci ho dato una mano per pulire la cucina visto che mi hanno fatto un mazzo così per dire eh ma dovresti aiutarci di più bla 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 perché adesso lei è incinta bla 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 è tutto così cioè sta di fatto che io ho dato una mano in più mi sono fatto un mazzo così cioè per la settimana la settimana prima mi hanno fatto un mazzo perché mi hanno detto che dovrei aiutare di più perché adesso lei è incinta quindi è sempre stanca è di qua, di là comunque tornando al discorso è successo che praticamente loro mi hanno fatto questo discorso mi hanno detto è che guarda che se tu non ci aiuti la cosa non potrebbe funzionare ok cosa è successo? una settimana dopo quando appunto dovevo andare via ero di fretta mi hanno detto e ne abbiamo parlato tanto con lei con appunto la mia host mam e abbiamo deciso che che la cosa non può funzionare che ci dispiace tanto per te però non ci siamo trovati nel senso che comunque come persona sei una bella persona eccetera eccetera però riguardo a gestire i bambini quando litigano non riesci tanto a risolvere questa cosa e sinceramente ci sono rimasta perché prima mi dici eh devi stare dietro alla cucina eh di qua di là e poi mi rinfacci la storia dei bambini ma allora scusa datti un pochino una regolata e poi comunque cioè secondo me una ragazza alla pari non si devono aspettare che la ragazza alla pari sia Mary Poppins cioè che tu arrivi in quella casa e tac i giochi sono fatti cambia i bambini eh fai diventare la famiglia felice come quella della Mulino Bianco no assolutamente no innanzitutto perché io ho 19 anni ok l'esperienza con i bambini sì ok l'ho avuto facendo un'animatrice cioè perlomeno a gestire i bambini quando litigano più o meno è così cos'ha però a parte il fatto che mi hanno detto che ne hanno già trovato un'altra e me l'hanno detto praticamente sabato due settimane fa era fine 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 marzo e cosa è successo cioè che adesso praticamente io sono qua in Italia infatti avete visto che la location è cambiata perché sono col computer finalmente portatile di mia mamma e sto registrando perché così la qualità audio e immagini è un pochino meglio sono qui in Italia perché giustamente per le vacanze di Pasqua sono tornata qui per due settimane sono arrivata qua il 3 aprile e riparto il 19 e cosa è successo cioè adesso praticamente io ritorno il 19 ok questa ragazza non è che viene non so io pensavo ma sì dai arriverà fine maggio 8 giugno cioè almeno io ho pensato siccome io avendo il contratto di minimo 6 mesi almeno fatemi finire fino a luglio no questa ragazza sapete quando arriva arriva il 27 di aprile cioè io adesso sono qui in Italia ok non voglio rimanere qui assolutamente perché ormai ho anche i miei giri di amicizia e mi piace stare lì e non ho voglia di stare qui sinceramente quindi il problema è che io devo trovarmi un lavoro e devo trovarmi un alloggio quindi cosa è successo praticamente quando mi hanno detto sta cosa io poi la settimana dopo ho iniziato a cercare 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 che non mi chiameranno perché praticamente a questi avevano bisogno quasi subito e siccome tornando in Italia hanno bisogno proprio qualcuno urgentemente e cosa devo dire quindi cioè il problema adesso è che mi devo trovare un alloggio è il casino che sono qua in Italia quindi non posso fare nulla da qui anche se puoi inviare i curriculum da qui ok però diciamo che non faresti una bellissima figura perché comunque ti farei vedere in giro capito e quindi me la devo un po' sbrigare io però non sono stati scorretti perché non mi potete dare un preavviso una settimana prima che parto che poi d'altronde cioè non ho avuto neanche tempo di andare in giro con i curriculum perché cosa è successo che il bambino piccolo è stato male ha avuto la febbre quindi dovevo stare a casa quello che ho tutto il giorno poi è stato male quell'altro quindi tempo di andare in giro per i curriculum non l'ho fatto per fortuna ho fatto il national insurance number che mi deve arrivare credo per metà aprile metà aprile quando io sarò ancora qui sperando incrociamo le dita perché veramente quello serve perché senza quello non puoi lavorare ma comunque mi sa che il novatab a cento dei casi comunque te lo inviano perché devi essere proprio un cucù nel senso a parte che a me non hanno chiesto nulla cioè non mi hanno fatto un colloquio vero e proprio sinceramente pensavo fosse una cosa ho detto oddio chissà cosa mi chiedono alla fine mi hanno occupato solamente i documenti punto quindi adesso grazie a loro mi trovo in questa situazione e non è facile perché io sono molto stressata adesso cioè pure essendo qui in vacanza sono stressata ok la mia pelle ne risente infatti vedete qua ho i brufoli cioè che mi si stanno eh già apparendo perché sono stressatissima non sto vivendo una situazione molto molto tranquilla giustamente una ragazzera una ragazza dico neanche un ragazzo una ragazza di 19 anni che viene sbattuta fuori casa e deve trovare una soluzione nel senso non non cioè non è facile non è facile però comunque sinceramente ci sono rimasta perché io almeno fino a luglio secondo me mi dovevano far finire poi piuttosto vedevo un po' cosa facevo però non potete dirmi non potete darmi un preavviso ok che il preavviso deve essere due settimane almeno ok sì su quello ci può stare però non è stato neanche giusto nei nei miei confronti cioè non sono stati corretti e quindi quindi vedrò un po' cosa cosa si sistemerà e comunque cioè ritornando al discorso di far la ragazza lavari io dico fatelo cioè fatelo rischiate fate quello che volete e nel caso vi buttassero fuori casa non tornate in Italia perché sinceramente quando ero nata a Londra a fare la ragazza la pari per tre settimane è successo che io sono tornata in Italia per due mesi ok e quei due mesi qua sono stati i peggiori della mia vita non sto scherzando cioè fase di depressione totale mettere a piangere proprio disperata quindi io non voglio ritornare ancora indietro come ho fatto a settembre io piuttosto stavolta voglio rischiare voglio rischiare perché comunque questa è un'opportunità che mi si sta ripresentando di nuovo e se si sta ripresentando di nuovo questa opportunità vuol dire che deve essere così secondo me nel senso che non che se comunque questa opportunità di stare ancora fuori casa si ripresenta di nuovo è perché è così secondo me non so io credo nel destino magari è una cosa temporanea non si sa magari non torno magari non sto lì per sempre in Scozia ad Aberdeen in città tra il petrolio aria molto inquinata comunque cioè non è molto come si può dire healthy e quindi quindi cioè vedremo un po' come andrà sta cosa e vabbè a parte questo mi raccomando rischiate perché una volta che vi buttate è fantastico e sinceramente io non vedo l'ora di ritornare su cioè ma non tanto dalla mia host family perché con la mia host family comunque non a parte il fatto che dopo 4 mesi ragazzi ve lo dico dopo 4 mesi la pazienza con i bambini sale a qui ma qui davvero anche perché io avendo due maschi uno di 4 uno di 6 capito che non è una situazione molto easy quindi quindi davvero ragazzi cioè provateci innanzitutto per stare fuori all'estero la prima cosa che dovete fare secondo me è fare la ragazza o ragazzola pari perché con quello vi da una base vi da una base per stare all'estero poi magari c'è gente che dopo qualche mese non si trova o o che non è un'esperienza per loro e tornano in Italia ok quello ci sta però fatelo fatelo perché è un'esperienza bella vi fa fare una sorta di scambio interculturale con la famiglia girate un po' con la famiglia un po' i vari posti anche se a maggio mi avevano detto che dovevamo andare a Pitclory che è una zona di distilleria però visto che la ragazza viene al 30 al 27 di aprile io sono già fuori quindi no è casino che io entro il 30 di aprile devo aver già trovato tutto cioè quindi la soluzione è o davvero la prima cosa essenziale secondo me è trovare lavoro perché senza quello non campi cioè piuttosto che stare con alloggio ma senza lavoro piuttosto fai lavoro ma senza alloggio e piuttosto stai in un ostello perché perché comunque non senza lavoro non puoi permetterti nulla cioè non puoi mangiare non puoi giustamente o che la vaga viene al mese però non come si può dire cioè non campi capito e quindi ragazzi vediamo un po' come andrà ci sono un po' rimasta però però vabbè era destino che non dovevo fare la ragazza alla pari non lo so cioè magari la dovevo fare però in un certo limite però secondo me se dovete fare un ragazzo o una ragazza alla pari fate massimo sei mesi perché comunque dopo un po' vi inizite a rompere nel senso che sei mesi ma massimo massimo un anno ma proprio massimo massimo perché comunque cioè dopo un po' ti rompi stare con i bambini a volte vuoi stare un po' per conto tuo è bello perché comunque vivi nella famiglia non è da preoccupare le cose di mangiare le spese eccetera quello assolutamente sì però a livello di privacy la tene non è nulla cioè alla fine si è sempre la fatta con i bambini però dopo un po' i bambini iniziano a aumentarti pesanti cioè soprattutto la pazienza inizia a diventare pesante niente chiudo questo video perché vedo che è lunghetto 14 minuti e 50 quasi praticamente niente ragazzi vi farò un po' sapere vi aggiornerò un po' con queste novità comunque non mollate mai siete determinati capite davvero cosa volete fare davvero della vostra vita nel senso perché questo che sto facendo io credo sia un cambiamento comunque radicale della mia vita una ragazza di 19 anni che va a vivere da sola non è facile soprattutto per quanto riguarda la mentalità italiana perché comunque per esempio le oper tedesche comunque olandese tutte quelle ragazze che conosco cioè sono già indipendenti per loro è normale stare fuori casa andare in giro da sole viaggiare di qua di là per una ragazza italiana la mentalità italiana ovvero la mentalità che abbiamo noi sulla famiglia per noi è molto importante ovvero non cioè sinceramente per un italiano soprattutto uno del sud sto dicendo non farebbe mai una cosa non lascierebbe mai la figlia andare da sola in un paese sperduto in una città sperduta a sua nord ai confini della Norvegia per farvi capire quindi non è facile sinceramente i miei genitori mi stanno abbastanza appoggiando e se questo era vero ne devo essere grata anche perché giustamente io faccio quello che mi se non c'è niente di sbagliato se ti rende felice quindi io sono felice là e vediamo un po' come andranno le cose comunque mi aggiornerò un pochino con le novità dai niente vi lascio mi raccomando passate delle buone vacanze di Pasqua buona scuola i maturandi per chi deve fare le tesine ecc e niente ciao ragazzi Grazie a tutti.